Insomma io credo che, insomma ve lo aspettate, lo so che sapete che c'è e che siete, fremete nell'attesa di poterlo ascoltare, è Zucchero Fornaciari! 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 Va a trovare nuove sensazioni, va a ritrasportare dalle emozioni, e un incontro di mani di questo amore. Con le mani se vuoi, puoi dirmi di sì, le tue mani così all'improvviso, si sono fatta in strada fuori e dentro di me. Con le mani se vuoi, puoi dirmi di sì, le tue mani, puoi dirmi di sì, le tue mani, puoi dirmi di sì, le tue mani. Con le mani se vuoi, puoi dirmi di sì, e provare nuove sensazioni, va a ritrasportare dalle emozioni, e un incontro di mani di questo amore. Con le mani se vuoi, puoi dirmi di sì, le tue mani così all'improvviso, si sono fatta in strada fuori e dentro di me. Ha! 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 Volevo le sensazioni, fa si trasportare tante emozioni e l'incontro di mani, questo amore, con le mani tu, ti rendisci. Volevo le mani così all'improvviso, le mani così all'improvviso, sono fatta in strada, fuori e dentro di me, sketch. Ciao Bologna! 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 Pippo! Come sono! Pippo! Vi sono i nostri un po', è così! Pippo! Abbottare paura! Grazie per la visione 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 Mi dispiace che la televisione ha documentato la seconda sera dove tu eri già ma la prima sera era emozionatissimo con Joe Cocker sul palco Si sono due cose diverse il primo posto è una cosa che non mi aspettavo subito così quest'anno invece è arrivato e benvenuto Con Joe è una cosa che dura da una vita Arriva con Joe, arriva Facciamo la cosa, vai Ok, state pronti a seguire lui Ok Pronti anche te Anch'io, ok Grazie per la visione Zucchero Grazie per la visione 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 Grazie per la visione